Impoverimento delle retribuzioni dei lavoratori, indebolimento del sistema previdenziale pubblico e riduzione delle spese di funzionamento dell'Istituto con evidenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi dall'Inps ai cittadini. Queste le conseguenze dal taglio operato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, un provvedimento che ha destato viva preoccupazione tra i lavoratori che, questa mattina, chiamati in assemblea dalle rappresentanze sindacali unitarie, hanno occupato simbolicamente gli uffici della direzione di Teramo e dichiarato lo stato d'agitazione. La situazione è drammatica, si reitera per l'ennesima volta un attacco all'Istituto, dobbiamo avvisare la popolazione ed esortarla a essere vicino all'Istituto, esortiamo anche la politica che a livello nazionale sappiamo benissimo che non ha affatto ridotto i propri privilegi e noi chiediamo allora ai nostri parlamentari terramani abruzzesi di andare controcorrente e di stare vicini all'Istituto, di sorreggere l'Istituto e di tentare di bloccare questa truffa che viene perpetrata ai danni dell'Istituto, che se andrà in porto saranno prodotti una deduzione dei servizi alla cittadinanza, che tra l'altro l'utenza dell'Inps è quella tra le più povere. Un percorso di protesta che ha avuto inizio ieri, adesso cosa accadrà? Sì, ieri abbiamo scritto nei comunicati stampa, è iniziato lo stadio di agitazione presso l'Inps di Teramo e le sedi zonali, perché vogliamo contrastare l'ipotesi del taglio e quindi della riduzione delle risorse per il funzionamento dell'Istituto e quindi stiamo mettendo in campo delle iniziative. Domani ci sarà un blackout informatico per tutta la giornata, per cui i nostri computer saranno spenti. Dopodomani Pescara, saremo lì a manifestare davanti alla Prefettura. Ci saranno altre iniziative dalla settimana prossima che ci vedranno, spero sempre di più, partecipi. Ovviamente tutto questo noi lo stiamo facendo sperando non nella collaborazione ma nella comprensione dell'utenza, perché il nostro obiettivo non è salvaguardare il ruolo dell'Istituto che ha, proprio riguardo all'utenza, che diciamo come ha detto il collega prima, la nostra utenza è la fascia più debole della società. Per cui salvaguardando queste cose però è giusto affermare la necessità di difendere questo ruolo istituzionale.